Ti sei portato un compagno? Mi piace avere qualcuno che mi apra la porta. Mano destra, non parziali. Ottimo lavoro. Non correre tanto, bellezza. Hai qualcosa per me? Oh, sì. Non ho idea a cosa ti servono le impronte del signor Wayne, ma immagino che ti servirà il pollice. Non sei molto bravo a contare, eh? Conto benissimo. Infatti ho iniziato a contare fino a dieci. Adesso. Ok. C'è una persona qui fuori. Premi il tasto verde. Questo posto è un mortorio. Si ravviverà tra un minuto, credimi. Va tutto bene? Alla grande. Ci vediamo dopo. Sarebbe stato molto più semplice darmi quello che avevamo pattuito. Non possiamo lasciare i conti in sospeso. E perfino con quel vestito non mancherai a nessuno. No. Ma il mio amico laggiù manca a tutti i poliziotti della città. Che tesoro. Però non verranno a cercarlo in un posto come questo. Io non ci giurerei. Hai appena usato il suo cellulare. Non ci giurerei. Ti prego, ti prego, aiutatemi! Polizia! Vieni, l'ho prenduto bene, tesoro. Mi chiami? Sta bene? Sto salvinando, aiutatelo! Ho il deputato!